Posso raccontare un episodio che mi è capitato molti anni fa. Facevo delle indagini che avevano riguardato una persona che usava quattro identità diverse. Quando fu identificato si scoprì che ne aveva un'altra, quella vera, ed era latitante da 17 anni, con una condanna definitiva a 16 anni da scontare. Poi prese altri anni di carcere nel processo in cui era stato identificato. Molti anni dopo io andai all'ospedale Fatebene Fratelli per fare una visita oculistica. Presi il numero per aspettare il mio turno, per pagare il ticket e mi sedetti ad attendere. Me lo ricordavo perché era stato un processo molto complesso e difficile. Me lo vedi passare davanti con un camice bianco, lo guardai bene e lo riconobbi. Allora lo chiamai per cognome e lui si girò, mi salutò e io gli chiesi se fosse evaso perché secondo i miei calcoli doveva essere ancora detenuto. Lui mi rispose no, sono in semilibertà, sto facendo volontariato. e mi chiese ma lei che cosa fa qui? Dico io devo fare una visita oculistica. E lui stupito mi chiese e fa la fila? Io gli disse certo che faccio la fila. Gli disse no, ci penso io. Gli disse no guardi, la prego. E lui mi disse no ma cosa ha capito? Non dico chi sono io, dico chi è lei. La cosa mi sembrava ancora peggiore. Già che ipotizzasse di dire chi era lui visto che era in odore di appartenenza associazione mafiosa. E poi di fronte al mio rifiuto mi disse una cosa tipo ma lei è troppo modesto, una cosa di questo genere. Raccontai la cosa a un collega dicendo ma dimmi tu se è possibile una cosa di questo genere. E lui, il collega mi rimproverò dicendo ma vedi tu sei sempre il solito. Da parte sua era un gesto di rispetto e tu in questo modo magari lo hai offeso. Tu sei il portatore di cultura mafiosa perché se uno passa davanti agli altri, gli altri vanno indietro. Ma è possibile che non lo capisci e fai il magistrato come me? Insomma come ti viene in mente di dire una cosa di questo genere? Ecco, in questo senso questo paese non sempre ha chiaro che se qualcuno va avanti gli altri vanno indietro. Ed è una cosa che bisognerebbe ricordare.